alzando lo sguardo provando a cambiare la nostra prospettiva vediamo come molte cose vadano ad intrecciarsi analizzare le dinamiche e capire i trend in essere trovare il filo rosso che unisce trasversalmente economia eventi attualità per allargare gli orizzonti dal settore dell'acciaio e appunto avanzare lo sguardo sono massimiliano panarari e questo il panorami il podcast di cedar web che il martedì e giovedì analizza l'attualità dall'italia e dal mondo nelle scorse ore si è concluso a bruxelles il terzo vertice ue celac ovvero tra i leader dell'unione europea e i loro corrispettivi della comunità degli stati latino americani e caraibici un vertice che aveva l'obiettivo di rafforzare il partenariato tra l'unione europea e paesi celac di discutere su forme di collaborazione per realizzare una duplice transizione verdi digitale equa e dimostrare un impegno comune a sostenere l'ordinamento internazionale basato sulle regole è stato un esito più vicino per molti versi alla prima anche in termini al primo obiettivo anche in termini di riaffermazione da parte dell'unione europea di un impegno nel contesto di grande confusione di grande cambiamento delle sfere di influenza in quello che non è affatto un ordinamento internazionale multilaterale a dispetto di quello che sostengono le autocrazie e meno appunto invece dal sotto il profilo della costruzione di un consenso rispetto a mutamenti dell'ordine internazionale basati però sul diritto e sulle regole a copresedere il vertice tra e celac sono stati il presidente del consiglio europeo char michel e il primo ministro di san vincent e grenadine ralph gonsalves in qualità di presidente protempore del celac e a partecipare i servizi per l'unione europea sono stati la presidente della commissione europea e l'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza l'unione europea e i paesi latinoamericani i carebici vantano un partenariato di lunga data all'interno del quale naturalmente sono presenti anche i temi fondamentali dei valori comuni di quelli democratici dell'impegno a espandere la democrazia i diritti umani e lo stato di diritto e la logica è quella di dare vita ad un sistema multilaterale forte ma a portare i nubi sulla sull'esito del vertice è stata per l'appunto la questione dell'invasione russa dell'ucraina rispetto alla quale si sono registrate divergenze significative nel pre vertice con il presidente brasiliano lula e il premier spagnolo pedro sanchez la presidente della commissione von der Leyen ha annunciato la decisione da parte dell'unione europea di intensificare la cooperazione in america latina e l'intenzione sotto la bandiera del programma global gateway di portare appunto in sud america più di 45 milioni di euro per investimenti di alta qualità con 135 progetti in cantiere che vanno dall'idrogeno pulito alle materie prime essenziali dall'espansione della rete di cavi dati ad alte prestazioni fino alla produzione di vaccini avanzati di tipo mrna e naturalmente il grande nodo il grande tema reso sempre più urgente dalla competizione geoeconomica e dalla necessità di procurarsene la questione delle materie prime nuove e vecchie che oggi sono al centro innanzitutto della crisi una delle tante peraltro tra stati uniti e cina crisi che tende a inaspirarsi giorno dopo giorno e rispetto alla quale i nodi di una possibile distensione nonostante i ripetuti viaggi di rappresentanti statunitensi di altissimo grado da janet yellen la governatrice della fed al segretario di stato anthony blinken fino a john kerry il rappresentante per le questioni del clima della presenza degli stati uniti le divergenze appunto non accennano a diminuire in ogni caso un punto importante fuoriuscito dal vertice ue celac riguarda giusto appunto la questione dei minerali minerali dal litio a rame di cui il suolo sudamericano è molto ricco e di qui che riparto che è ripartito il dialogo fondamentale del vertice perché il l'unione europea ha deciso di accelerare in relazione alla situazione geopolitica sul pedale dell'autonomia strategica della sovranità dal punto di vista delle risorse delle materie prime per rendersi indipendente dalle forniture provenienti dalla cina indispensabili per i microchip e per le transizioni green e digitale di qui è arrivato e derivato il proposito di bruxelles di esplorare nuovi rapporti con partner che come quelli sudamericani e latinoamericani erano stati via via nel corso del tempo trascurati la spagna che ha che gestisce il semestre di presidenza del consiglio ha deciso quindi anche in relazione ai legami storici di dare vita e di animare fortemente questo vertice con i capi di stato latinoamericani ponendo al centro proprio l'approvvigionamento di minerali a partire dal litio la cui domanda globale si prevede che aumenterà di 12 volte entro il 2030 e di 20 volte entro il 2050 per rispondere al fabbisogno derivato dalla transizione energetica ursola von der leyen ha ripetutamente posto l'accento sulla centralità di questi dell'approvvigionamento di queste materie prime l'accordo commerciale con il cile prevede proprio una parte significativa relativa al litio e al rame e dovrebbe essere ratificato prima della fine dell'anno altri intesi bilaterali simili dovrebbero essere siglate anche con ulteriori paesi della regione a cominciare dall'argentina con cui l'unione europea ha siglato un memorandum sulle materie prime critiche in occasione della visita di von der leyen per questo bruxelles ha infatti messo sul tavolo il suo programma global gateway con piano di investimenti internazionali di 300 miliardi di euro da mobilitare per finanziare progetti infrastrutturali in america latina anche se a rendere comunque a inserire degli elementi di problematicità rispetto all'approvvigionamento di queste materie prime ci pensa il l'accordo commerciale con i paesi del mercosur brasilia argentina uruguay e paraguay che è finito su un binario morto dopo lo che è di massima del 2019 l'obiettivo era quello di creare un'area di libero scambio tra le due regioni ma se i paesi sudamericani insistono rispetto all'opposizione nei confronti dei vincoli ambientali che vengono previsti dall'accordo varie capitali dell'unione europea a partire da parigi al tempo stesso evidenziano anche gli effetti negativi che la liberalizzazione dell'import di carni prevista appunto dall'accordo commerciale avrebbe sul comparto agricolo europeo e così ritorniamo in uno dei grandi conflitti che animano il posizionamento di interessi e degli stakeholders all'interno dell'unione europea quella che vede da un lato i favorevoli e o i più sensibili anche in termini economici alla transizione verde e al contrario il fortissimo comparto agricolo a vario titolo che trova proprio nella francia e oggi significativamente nei paesi dell'est uno dei propri baluardi ma il risultato finale del vertice sulla questione economica è stato comunque significativo invece a rendere problematico l'esito è stata la difficoltà di trovare un accordo su una dichiarazione congiunta sulla guerra in ucraina a causa proprio delle resistenze di alcuni paesi latinoamericani rispetto alle richieste provenienti dall'unione europea di pronunciare a chiare lettere una condanna decisa della russia l'unione europea intendeva includere la condanna dell'invasione russa dell'ucraina in una dichiarazione più ampia che illustrasse le conclusioni del vertice ma l'accordo non è stato raggiunto a opporsi sono stati innanzitutto infatti paesi che posseggono stretti legami politici ed economici con l'autocrazia putiniana come cuba e il nicaragua che si sono infatti opposti al tentativo di includere una chiara formula di condanna della russia una bozza di testo vista da alcune agenzie di stampa mostrava un paragrafo che condannava appunto la guerra in corso contro l'ucraina facendo riferimento peraltro alle risoluzioni delle nazioni unite che condannano la russia ma il tentativo di mettere nero su bianco questa esecrazione questa condanna non è andato in porto il documento si è limitato a fare riferimento alle posizioni nazionali specifiche dei paesi rappresentati al vertice che appunto riunito circa 50 leader dell'unione europea e della comunità degli stati dell'americana latina e dei caraibi e con questo è tutto a martedì con il prossimo appuntamento di panorami panorami è un podcast di siderweb lo potete ascoltare su tutte le piattaforme gratuite grazie 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 grazie